E gol! Carrera che di petto con molta calma serve ancora Neumann. Buono il servizio del tedesco per Colomba. In attacco Colomba. Al centro Mancini e Fiorini. L'intervento di Mancini. E il gol splendido di Mancini su servizio di Colomba. Al tredicesimo della ripresa. Uno splendido servizio di Colomba. Sul suggerimento di Neumann in contropiede. Mancini di prima intenzione ha toccato d'esterno e ha mandato la palla praticamente un gol identico a quello che Mancini è riuscito a fare a Como nella quarta giornata di campionato quando con un intervento di intelligenza un tocco di finezza potremmo dire ha mandato la palla alle spalle dell'esterefo